È stata votata ieri sera dai circa 60 dipendenti di Copalto Garda una proposta volta a sistemare la situazione attuale. Incontro immediato con l'azienda per riaprire la trattativa e in caso di rifiuto blocco dello straordinario e niente lavoro domenicale e festivo. Chiaro quindi il messaggio inviato all'azienda dai lavoratori che ieri sera si sono nuovamente ritrovati per discutere dopo la rottura della trattativa il 22 febbraio scorso. A fine mese scade la proroga sottoscritta e con il primo aprile si sentiranno gli effetti in busta paga. Prosegue il braccio di ferro azienda e lavoratori che ormai da mesi si scontrano sulla questione contratto integrativo. Da una parte l'azienda che per ridurre la voce costo del personale punta gran parte della sua proposta sulla produttività. Dall'altra le sigle sindacali e i lavoratori che non ci stanno a pagare di tasca propria le carenze di un bilancio che per il terzo esercizio consecutivo si annuncia in perdita secondo le previsioni di oltre mezzo milione di euro.